good morning guys oggi ti parlerò di dove andare con la fed bike a Livigno prima di sapere dove andare con la fed bike lascia che ti dica cosa fare prima vai a noleggiare la bicicletta in uno dei nostri noleggi partner qui a Livigno puoi noleggiare una fed bike assistita oppure una fed bike muscolare dipende un po da te dipende dal tuo allenamento dipende da quanto vuoi star fuori da quanta distanza vuoi percorrere qui sotto i commenti troverai il link di tutti i noleggi che hanno fed bike qui a Livigno come primo giro ti consiglio di andare nel percorso ciclo pedonale a fianco alla pista di sci di fondo ci sono i cartelli che ti spiegano esattamente dove andare dove non andare oppure oltre al percorso ciclo pedonale ti consiglio di andare lungo la pista ciclabile dietro le mie spalle è bellissima l'inverno è lunga quasi una decina di chilometri e ti porta dalla latteria di Livigno qui alle mie spalle fino all'alpevago se sei invece un pedalatore a canito ti consiglio andare nella val federia qui alle mie spalle alla mia destra è un percorso bellissimo si arriva fino dentro la val federia non si riesce andare fino in fondo come di estate ma comunque 200 metri di dislivello e salita li riuscirai a percorrere e su un percorso completamente innevato è fantastico oppure ti consiglio di andare verso l'alpevago non si fa molto dislivello ma comunque si percorrono circa una quindicina di chilometri per arrivare fino laggiù se invece sei un endurista o comunque un biker a cui piace la discesa allora ti consiglio di venire con noi guide mountain bike che ti porteremo nei percorsi più divertenti e fantastici qui di Livigno utilizzando gli impianti di risalita quali il cassana il paliperte e la sciovia del sole nelle quali ci sono dei sentieri battuti ad hoc per le fat bike se non sai se noleggiare una fat bike muscolare o una fat bike assistita guarda uno dei miei video precedenti dove ti spiego qual è esattamente la differenza tra quella assistita e quella muscolare bene 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 siamo arrivati alla fine quindi ti ringrazio grazie per la visione di questo video se sei arrivato fino qua vuol dire che sei una persona appassionata una persona alla quale interessa interessa sapere tutte le novità riguardo alla fat bike specialmente qua a Livigno quindi ti ringrazio ti ricordo di mettere un like al video un like alla pagina se hai dei dubbi scrivi qua sotto nei commenti grazie mille ciao a presto ti ricordo che per essere sempre aggiornato sui miei nuovi contenuti e consigli di seguire il canale e cliccare sulla campanella per essere avvisato appena esce un nuovo video inoltre nel link in descrizione potrai scaricare gratuitamente il mio manuale di tecnica in mountain bike ride a facile ci sono informazioni molto potenti quindi fanne buon uso in più solo per pochi do la possibilità di trasformare la loro passione per la mountain bike in un lavoro ma non voglio dirti troppo io sono fabrizio in serra maestro guida mountain bike ed esperto di turismo in bicicletta 360 50 40 bla 40 40 40 40 40 40 41 41 42 41 42 42 Hyun